buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale spalancamente oggi avremo a che fare con una storia di un amore malato tra un uomo maturo e una giovane preadolescente sto parlando di lolita di vladimir nabokov vladimir vladimirovich nabokov nato a san pietroburgo russia il 22 aprile 1899 morto a montry woods svizzera il 2 luglio 1977 noto come vladimir nabokov è stato uno scrittore traduttore entomologo lepidottero il professore russo nazionalizzato americano e svizzero i suoi primi scritti sono il russo ma è stato riconosciuto a livello internazionale come un maestro del romanzo e i suoi lavori scritti in inglese in particolare il suo romanzo lolita 1955 un ritratto della società americana attraverso la metafora del viaggio in cui la trama di un uomo di mezza età si innamora e mantiene una relazione con una ragazza di 12 anni oltre ai romanzi scrisse racconti e poesie ed era noto per i suoi significativi contributi allo studio dei lepidotteri e per la sua creazione di problemi di scacchi vladimir vladimirovich nabokov era il figlio maggiore di vladimir dimitrevich nabokov e ilenia ivainona rokovinskikova una famiglia ricca e aristocratica di san pietroburgo la famiglia parlava russo inglese e francese quindi nabokov era trilingue fin dalla tenera età nel 1919 la sua famiglia andò in esilio in germania per paura del bolshevismo e nabokov entrò nell'università di cambridge nel 1922 completò gli studi di slavo e di lingue romanze al trinity college dell'università di cambridge si trasferì quindi a berlino dove il padre venne assassinato il 28 di marzo dal monarchico priot shabelsky bork mentre cercava di proteggere pavel milukov leader del partito democratico costituzionale e poi a parigi acquistando una sempre maggiore notorietà nell'ambiente dei russi emigrati grazie ai suoi primi scritti il russo pubblicati sotto lo pseudonimo di shereen nel 1925 sposò vera slonim dalla quale nel 1934 ebbe un bambino di nome dimitri nel 1940 giunse negli stati uniti dalla francia in fuga dalla seconda guerra mondiale suo fratello siergei era morto in un campo di concentramento tedesco perché omosessuale nel 1945 prese la cittadinanza statunitense da quel momento egli scrissi in inglese e tradusse in questa lingua alcune delle sue opere precedenti insegnò letteratura russa per 11 anni presso la cornell university di itaca dove tenne anche un corso di scrittura creativa seguito nel 1959 da thomas pension e negli ultimi anni visse in svizzera a montrius dove alternò la sua attività letteraria con quella delle appassionate ricerche di entomologo nabokov era famoso per le sue trame complesse i suoi giochi di parole intelligenti e il suo uso della letterazione ha guadagnato fama e notorietà con il suo romanzo lolita 1955 che tratta della consumata passione di un uomo adulto per una ragazza di 12 anni questo e altri suoi suoi romanzi in particolare pale fire nel 1962 e soprattutto ada o borning 1969 gli hanno dato un posto tra i grandi romanzieri del ventesimo secolo amber amber il nome è un pseudonimo utilizzato dall'immaginario curatore dello scritto l'incaricato del suo avvocato nato a parigi nel 1910 professore di letteratura francese matura sentimenti morbosi verso la 12 anni futura figliastra lolita muore in carcere di trombosi coronarica il 16 novembre 1952 lolita anche detta lo dolly il cui vero nome è dolores case ma viene costantemente chiamata da tutti con i due vezzeggi attivi appena citati nata il primo gennaio 1935 vicina a cincinnati ragazzina molto spregiudicata e ribelle che mostra una sessualità molto marcata rispetto alla sua giovanissima età diventa all'ossessione di amber all'inizio del libro a 12 anni charlotte hayes la madre vedova di lolita e la futura moglie di amber si innamorerà presto di amber e addirittura si dimostrerà gelosa delle attenzioni che la figlia ottiene da parte dello stesso motivo per cui decide rimandarla in colonia claire culti un vecchio regista e amico di lolita che nella sua apparente gentilezza nei confronti della ragazzina cela intenzioni promiscue lo psicologo immaginario john ray junior spiega di aver ricevuto un manoscritto intitolato lolita o la confessione di un vedovo bianco firmato con lo pseudonimo di amber amber un autore morto in prigione per una trombosi coronarica il professore amber amber voce narrante del racconto annoiato insegnante quarantenne di letteratura francese dopo un matrimonio fallito e dopo essersi ripreso da un esalimento nervoso si trasferisce nella piccola città di ramsdale nella nuova inghilterra per potere dedicarsi interamente alla scrittura affitta una stanza nella casa di charlotte hayes una vedova è qui che fa la conoscenza di dolores chiamata anche lo lola o dolly la figlia dodicenne della padrona ribelle e maliziosamente spregiudicata lolita gli richiama subito alla mente annabel il suo primo amore da tredicenne nonostante la differenza di età amber perde la testa per la ragazzina e inizia con lei un sottile rapporto di ingenua complicità che porta dolores a salutare amber prima di partire per la colonia con un casto bacio sulle labbra mentre la figlia si trova al campo estivo charlotte che intanto si è innamorata di amber si dichiara e gli accetta di sposarla al solo fine di continuare a vivere vicino alla sua lolita poco tempo dopo a charlotte capita di leggere il diario dell'uomo e appresi i veri sentimenti e intenzioni di lui progetta di fuggire e di inviare dolores in un collegio minaccia amber di esporlo a un pubblico scandalo come detestabile abominevole criminale bugiardo il destino tuttavia interviene a favore del professore mentre sta attraversando la strada charlotte viene investita da un'automobile e rimane uccisa a questo punto amber va a riprendere dolores del campeggio raccontandole inizialmente che la madre è stata ricoverata in ospedale ma invece di tornare a casa i due cominciano un lungo vagabondaggio da un motel all'altro in giro per gli stati uniti la prima sera fa ingurgitare dei sonniferi alla ragazzina con l'intenzione di averla tutta per sé viene però a scoprire che dolores ha già perduto la virginità con un ragazzo della sua età al campeggio dopo aver ammesso la morte della madre amber propone a lolita di accettarlo come suo patrino e affidatario amber comincia anche a pagarla per ottenerne i favori sessuali e al fine di impedirle di denunciarlo la polizia la spaventa dicendole che se arrestano lui finirà in prigione e lei chissà dove per mano dei servizi sociali passano in questa maniera un anno intero finché amber comprende la necessità di lolita di conseguire un'istruzione come tutti i suoi coetanei giungono così nella cittadina di bradsville dove amber iscrive lolita ad una scuola femminile lolita nel tentativo di ritagliarsi degli spazi di autonomia dalla sfissiante presenza di amber che pattosi sempre più possessivo la tiene praticamente prigioniera vietandole di partecipare alle attività del dopo scuola e soprattutto di frequentare i ragazzi la persuade a permetterle di frequentare una scuola di teatro dove ha modo di incontrare gli amici e il commediografo kilti che aveva già conosciuto quando questi era stato ospite della casa della madre stanno preparando la recita scolastica e assistendo a una delle prove generali quando kilti rimane fortemente colpito dalle capacità recitative di lolita poco prima della serata di inaugurazione amber e lolita hanno una feroce discussione lolita scappa via e amber te la ritrova raggiante mentre sta uscendo da una cabina telefonica affermando che stava per raggiungerlo a casa e che ha preso una grande decisione mentre comprano da bere lolita ferma chi vuole rimettersi in viaggio amber te messo in difficoltà dalle voci poco gradevoli che la sua relazione con la figliastra lolita hanno ispirato la comunità decide di cogliere l'occasione al balzo e fuggire in auto per riprendere i loro vagabondaggi sulle strade statunitensi tuttavia amber te ha la sensazione di essere seguito da un uomo misterioso che gli suppone essere dapprima un investigatore e comincia a farsi via via sempre più sospettoso temendo che lolita lo conosca e che stia cospirando con altre persone al fine di sfuggirgli ad un certo punto lolita si ammala e viene ricoverata in ospedale e per la prima volta ambert si ritrova dopo anni senza avere lolita al suo fianco una volta guarita lolita riesce a sfuggire la sua sorveglianza e a dileguarsi dall'ospedale prima ancora che amber te possa venire a prenderla con un uomo adulto che al personale medico si fa passare per lo zio gustave un ambert quasi impazzito si dà una frenetica ricerca girovagando per miriardi di hotel e scoprendo il più delle volte che lolita e il misterioso uomo avevano soggiornato lì ma sempre un passo prima di lui che vi giungesse alla fine egli finisce con l'arrendersi e dopo svariato tempo ha un rapporto con una donna di nome rita che dura due anni l'anno seguente amber riceve una lettera da un ormai 17 anni lolita che gli scrive di essere sposata in attesa di un figlio e bisognosa di denaro amber te va a trovarla e riesce a farsi dire il nome di chi l'aveva aiutata nella fuga dell'ospedale niente di meno che cutie il regista aveva subito cercato di farne una stella di film pornografici ma a rifiuto di lei l'aveva buttata in strada e allora lolita ha fatto vari lavoretti prima di incontrare e sposare il marito dick richard che non conosce nulla dal suo passato e al quale ha raccontato di amber come se fosse il suo vero padre dopo averle consegnato 4000 dollari amber cerca di convincerla a venire via con sé ricevendone però un secco rifiuto a questo punto nella più completa disperazione amber va a cercare quilty a casa sua e lo uccide a colpi di rivoltella arrestato per l'omicidio a scrive in carcere in attesa di processo il libro di memoria lolita o le confessioni di un maschio bianco vedovo lolita or the confessions of a white widowed male da pubblicarsi come autodifesa postuma alla fine come viene detto ho fatto intuire la moglie di richard f schiller è morta di parto già nella pittizia prefazione amber muore in carcere per trombosi coronarica e un mese dopo lolita muore di parto il giorno di natale a causa della trama il libro venne rifiutato da molte case editrici a meno di pesanti tagli e censure che nabokov si rifiutò sempre di operare fu pubblicato a parigi dalla olympia press un importante casa editrice di letteratura erotica nel 1955 nel dicembre del 1956 il ministro degli interni francese lo bandì per due anni la prima edizione americana avvenne nel 1958 per la gp patmans stones scalò la classifica dei best seller più venduti e divenne il primo libro dopo via col vento a vendere centomila copie nelle prime tre settimane di pubblicazione in italia fu pubblicato nel 1959 da bondadori nonostante lo scandalo le circa 400 pagine del libro non contengono né parole né descrizioni oscene la trama è intessuta di uno stile letterariamente alto ed elegante che allude alle scabrosità senza mai descriverle esplicitamente adattamenti cinematografici 1962 lolita film di stanley kubrick con sue lion all'epoca del film quattordicenne nella parte di lolita james mason nella parte di ambert sherry winter nella parte di charlotte haise peter sellers nella parte di claire culti 1997 lolita regia di andrea line con domenica mason mason nella parte di ambert mason nella parte di charlotte haise e frank l'angella nella parte di claire culti mi raccomando seguitemi anche su instagram dove ogni volta vi comunicherò l'ora del video da vedere su youtube attivate la campanella per le notifiche e soprattutto mettete like ad ogni video amici non vi resta che augurarvi buon divertimento buon ascolto a presto